Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa battaglia online qui con noi Oggi abbiamo un ospite molto speciale, Joe97 Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi come potete vedere dalla schermata siamo in una lotta tripla Wonder Battle E comunque prima di iniziare, giusto per evitare commenti a caso Non ho preso la Capture, me la sta registrando lui in questo momento E la prenderò in futuro si spera E nulla, allora oggi siamo in una Wonder Battle in triplo E Joe adesso ci spiegherà in parole diciamo molto chiare, molto concise Che cosa è appunto una battaglia Wonder in triplo Ecco, semplicemente prendete 6 Pokémon, li scambiate nello scambio prodigioso E quello che ricevete non possono essere modificate nelle mosse, negli strumenti Li dovete utilizzare così come li ricevete E dopo scegliete voi la modalità di lotta e poi vi divertite col vostro avversario Perfetto, ci divertiamo a sclerare perché signori miei io ho trovato un scambio prodigioso Esatto Che a Joe non piaceranno, ve lo dico da subito Eh, vi invito anche a vedere la notte che abbiamo fatto su mio canale Ah giustamente, giusto, giusto, passate dal suo canale perché abbiamo fatto quella Cazione dove, vabbè, il nostro Che dire che è finita male, gone wrong, gone sexual è poco Beh, io devi iniziare, no? Vi ho provato ad abbozzare uno stall con il rafforzatore Esatto Siamo pronti Che tristezza Ma ti ho mandato, ho fatto selezione, io ho fatto, sono preparativi in corso, attenti Sono qua dal... A posto, a posto, ho scelto anche io Ok, perfetto Ci siamo Sono curioso di vedere i tuoi Pokémon Allora, aspetta Oddio Ok, e Meditate, e Meditate, non è Meditiam Non è Meditiam Eh, però... Ok, va già bene Però c'è un Auluccio che è pericoloso E Shackle, no Che te l'ho detto, eh No, stavo selezionando tre Pokémon, non ci credo Non fare l'idiota Ok, perfetto Ok, io sto aspettando Selezionati Pokémon a caso, come il mio solito Va bene, io sono pronti Ma tu hai... Quel termenderly mi sa tanto di Pokémon ottenuto da un uovo Che dato con Dragodanza, ma che avevo una... Boh, non lo so Non si sa Vedremo Rals, dimmi che è il Rals con solo teletransporto, ti prego Non lo so, vedremo Non li hai controllati? No, sì, non lo so Non te lo voglio dire Perfetto Ok, sono pronto Ok, è partita la battaglia Ho fatto dei calcoli un po' strani E secondo i miei calcoli dovrei vincerla Ok, perfetto Buona Questa ce la segniamo Esatto Ok, perfetto Makuita, un cinese schifoso Ti sarebbe Rals e... Non mi dice ok Ah, porca fra, io voglio mettere Makuita davanti Ah, ma tanto è in tri... Ah, no, è vero che è in triplo Scioltezza? E cos'è scioltezza? Eh, è bella domanda Ma è una mia abilità soprattutto Ah, aspetta Non siamo più in rotazione qua Eh, no Lo vuoi uno spoiler? Ho una luce di tipo lotta Che non ha mossa Sale Però ci avrai sicuramente aerossalto Tei infame No, porca troia Allora Ah, buona sapersi Davvero? Ma è piaciuta questa cosa Cosa? Eh, adesso vedi Appena è arrivato Ti dico Qual era la cosa che mi è piaciuta Anzi, direi appena Passo al turno Vediamo cosa succederà Io sponfus Eh, vabbè, cioè, dai Cosa ho messo? Pidup merda No, ho sperto che Che acido colpici tutti i pokémon in campo Oddio Non ci credo Ok, molto bene Col giù da divinazione Divinazione No, porca troia Acido e van giù tutti No, sono infame Oh, madonna Quanto fa male Fa malissimo Super efficace su chi, scusa? E su... Appunto, su chi? Se mi paralisi ti piccio Lo sapevo Come ho visto il palmo forza Ho detto Questo mi paralisi Fisso Ok, perfetto Oddio esce diventato utile Come una carpa per un... Reduce dal Vietnam Non lo so Ehm... Che cosa faccio, no? Allora I'm officially in the merda Allora... Oh, aspetta 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 No, ma come ho fatto? Buono Eh, buono Lo so Non chiederlo a me Sì, sì, sì No, vabbè Dai Banana Ciccione Via No No No, me l'offendi anche Ti prego, ti prego attacca No, mi ha attaccato Ah, sì, mi ha attaccato Electrike Benissimo, benissimo Ti prego Oddish non far cagate Oddish non far cagate Oddish non far cagate Oddish non far cagate Non far cagate In una foto Eh, no, questo è brutto Questa è pesante Questa è pesante Qualcosa mi dice che Oddish muore alla fine di questo turno Ma, cosa te lo fa capire? Non so se hai anche tu questo presaggio Ma non so Boh, vabbè Io faccio un acido per prassi E poi cazzo cosa fai Eh, tanto Quel makuitalidorm Oddio, la tensione Ma come hai fatto solo tre evoluzioni? C'hai mai giocato a Dora? Cosa? Tre evoluzioni? No, vabbè Dai Forse quattro No, no, è venuto fuori scritto tre Proprio buzzo Eh, vabbè Dai, ci ho giocato non troppo Però questo mi ha fatto cagare Boh, inalpiavo Sei anche svegliato E questa è la mossa che ti dicevo Che cancro Dai, electric Uh, brutto colpo Electric, scintilla su Fidav No, scintilla? Non ci credo a retto Ce l'ha fatto Uh, paralizzato Axe Mi sa che mi va giù Uh, 3PS 3PS Oh, che infame L'animazione di divinazione non avevo mai vista 3PS, attenzione Oh, e adesso posso rimandare a un luce senza paura Eh, ma secondo me ho luce a rischio di aprirci Allora Vediamo se riesco a fare jackpot Vai Ho selezionato le mie tre mosse C'ho le idee chiare Questa la vinco Questa la vinco No, no Infame Questa la vinco Nel caso non la vinco Metto dentro Il passatore pure con lui Vaffanculo Ok, forza No No Ma ci attacco rapido L'avevo fatto anche io La volevi la prioriti La volevi la prioriti Ma sei un infame Guarda, guarda che faccio c'è qua C'è giù uno No, vabbè, dai È vinta questa L'hai vinta E a nanna pure lui Ma facca troia L'ho vinta su tutta la linea questa Vabbè, dai Questa qui l'hai vinta Adesso arriva in campo Ma qui Eh, era paralizzato Qualcosa Io ero tentato Io poi ho luce in mezzo Ah, ma cazzo Tu hai ancora meditate Rimediamo subito Allora Quel meditate stronzo Mi sta Già antipatico Anche perché Se c'ha forza pura È un problema Di fondo Allora Sì, ma che le mosse di merda Che c'ha Vabbè, avrà palmoforza, no? No, cazzo No, electric Perché non mi hai scioltato electric Eh, non ci ho pensato Non Ciao Eh, vabbè, dai Electric non è che mi desse tanto fastidio Eh? Non è che mi desse tanto fastidio electric Ah, ok, mi chiedeva Che fosse il tuo Che faceva scinti Ok, adesso Ma qui ta stronzo Si sveglia Fa fra bordo e boccia No Perfetto Allora Adesso vediamo di Chiuderla Eh, oddio Lo spettro Vero che non è Eh, vabbè Vabbè, dai Hai vinto Dai, chiudila Vediamo di chiuderla Allora Sroomy Ci va a casa Perfetto Beh, gg Tutto dipende se electric È in grado di sciottarti Quinta Sì, leccata e Eh, sì, si mandi capo Fisso Sì, si mando giù Bella È durata un po' meno Della battaglia da giù Vabbè, nella battaglia di prima Aveva fatto 1700 fail E poi questa qui Nella lotta tripla Una lotta in rotazione Dura di più Soprattutto nella battaglia di primo Stollato col rafforzatore 5 a 0 Hai vinto Cristo Dio Eh, comunque Signori miei Eh, no Non salviamo la lotta Perché Cioè, poi Mi sono in casa di essere La sto già salvando io Quindi Perfetto Signori miei Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Vi invito A commentare E iscrivervi al canale Mi raccomando Passate dal canale Che dovete andare a vedere L'altra battaglia Dovete E soprattutto Dovete lasciare un like Al suo video Dovete passare dai nostri social E dal gruppo Telegram Perché Sul gruppo Telegram Ci sono tante belle cose Molte, molte belle cose E diteci anche nei commenti Se vi piacciono Questi tipi di video Che ne potremo portare Anche altri in futuro O no Esattamente Sì, assolutamente Se vi piacciono questi video Facciamo che arriviamo Mettiamo una cifra di like Non lo so Facciamo Sessanta Cento Cento like Cento like E Ve ne portiamo Al Si spera Al più presto Esatto E quindi nulla Appunto Fate tutto quello Che ho detto in precedenza E noi ci mettiamo In un prossimo video Ciao ciao